Anticipazioni Terra Mara 13 gennaio, Zuleya rinchiusa in manicomio, il mazzo desperato. Ma prima di svelarvi le anticipazioni della puntata di oggi di Terra Mara, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per scoprire in anteprima le rivelazioni delle soppi più amate del momento. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme. Unkar decide, all'insaputa del figlio Demir, che come ben sappiamo al momento è rinchiuso in prigione, di far ricoverare Zuleya in un ospedale psichiatrico. La Unkar, sul suggerimento del dottor Tunka, prende questa decisione sconvolgente, dopo che Zuleya ha compiuto un gesto estremo. Il dottor Tunka, dopo aver salvato la vita Zuleya, preoccupato per la sua sanità mentale, parla con la Unkar, la quale all'inizio non era proprio propensa a far ricoverare Zuleya, era anzi spaventata all'idea. Ma con il passare dei minuti, anch'essa si convince che forse questa è la soluzione migliore per tutti. Vediamo scene concitate dove Zuleya cerca in tutti i modi di opporsi a questa decisione, soprattutto dopo aver capito dove è finita. Ma la suocera non ritorna sui suoi passi. Abbiamo però altri protagonisti da seguire, ricordiamoci il Maz che ha la ricerca disperata di Muzgan. Cosa farà il Maz per trovare la dottoressa? Decide, saggiamente, di andare da Fijan, l'amica fidata di Muzgan, sperando di scoprire in tutti i modi dove si è andata. Dopo la conversazione avuta con Fijan, il Maz capisce che la sua futura moglie sta andando ad Istanbul, pronta per andare in aeroporto e prendere il volo per l'America. Preoccupato che sia già troppo tardi, l'imprenditore corre verso Muzgan. Il Maz farà in tempo a fermarla e farle cambiare idea. Ed Emir? Ed Emir è ancora dietro le sbarre, in attesa che venga deposta l'accusa di omicidio. Nel frattempo riceverà la visita di Gaffur, il quale chiede all'imprenditore che cosa debba fare in questa circostanza e come può aiutarlo. Termina qui una settimana vincente e ricca di colpi di scena. Se il video ti è piaciuto, fammelo sapere e ricordati di iscriverti al canale.